Benvenuti ad Interview, l'opinione del personaggio del giorno. I venti di guerra non accennano a placarsi. Oggi Putin ha riaffermato le intenzioni di continuare nel conflitto con l'Ucraina fino al raggiungimento degli obiettivi russi. Netanyahu ha ribadito che l'azione di Israele a Gaza continuerà anche senza il sostegno internazionale. Su questi temi ma in particolar modo sui riflessi che due eventi ebellici possono avere sull'economia del Mediterraneo abbiamo voluto ascoltare ai nostri microfoni un esperto del settore l'ordinario di relazioni internazionali dell'Università Cattolica di Milano il professor Vittorio Emanuele Parsi. Quello che vediamo è già un saldarsi delle due crisi. Il Mediterraneo per molti aspetti è un epicentro perché non dimentichiamo che l'Ucraina è sul Mar Negro e nel Mediterraneo che i trasporti di oil e gas che arrivano dal Golfo passano comunque in gran parte dal canale di Suez. Quindi il Mediterraneo rappresenta veramente un punto in cui la volatilità della stabilità del sistema si esalta purtroppo per noi. Ecco perché è così importante cercare di chiudere rapidamente la crisi di Gaza anche perché per noi europei in generale e per il sistema internazionale è la guerra russa in Ucraina il punto più delicato. Questo che cosa significa per il settore dei trasporti e la logistica al momento? Beh la logistica avrà comunque, deve considerare che appunto dall'area in cui arrivano gran parte delle forniture energetiche delle due aree abbiamo conflittualità che accentueranno quella che è la necessità di un French shoring e poi anche nei confronti della Cina noi abbiamo bisogno di meno Cina nel nostro portafoglio per così dire e questo evidentemente comporterà un qualche cambiamento anche per la logistica che non vuol dire necessariamente un rallentamento perché probabilmente semplicemente cambieranno alcune rotte per molti aspetti la vera sfida è tra la Cotton Road e la Silk Road noi dobbiamo investire sulla Cotton Road Siamo alla fine della globalizzazione? No, siamo alla riconcettualizzazione della globalizzazione una globalizzazione che si è in grado di valutare meglio il costo politico quindi non è la fine della globalizzazione per molti aspetti è un'opportunità per una globalizzazione più ordinata perché tenendo conto di più variabili sarà una globalizzazione più solida certo, la catena logistica è più corta e d'altra parte la Cina sta già rallentando e pensare che di affidare il motore della globalizzazione alla Cina in questo momento è un azzardo economico oltre che politico Questa è la puntuale analisi sulle ripercussioni dei conflitti in Ucraina e in Palestina sulle economie del Mediterraneo del professor Vittorio Emanuele Parsi ordinario di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano appuntamento a domani per una nuova interview al personaggio del giorno dell'Università Cattolica di Milano Grazie.